Essendo un imprenditore lui, però con zero esperienza nel mondo politico, voglio capire e vedere alcune idee interessanti e da vedere. Sono ancora un po' scioccato dalle elezioni di ieri. Sicuramente sul settore di business negli Stati Uniti sono tanti che sono pro-Trump perché pensano che potrebbe aiutare l'economia americana.